Enoteca Sapori Mediterranei, via Papa Giovanni XXIII, quartiere San Matteo, Nocera Inferiore, sono in compagna di Ghetano. Salve Ghetano! Salve! Ghetano, da te è possibile trovare davvero un ampio assortimento di vino? Sì, diciamo che abbiamo una buona selezione di vini, sia campani che non, dalle aziende più conosciute alle aziende un po' meno conosciute delle nostre scommesse. Poi, oltre ai vini imbottigliati, teniamo anche il vino alla mescita, in modo da accontentare un pochettino tutte le fasce dei clienti, per chi vuole un prodotto un po' più giornaliero, un prodotto meno impegnativo rispetto al vino imbottigliato. Poi ovviamente non solo vino, ma anche spumante. Sì, sì, anche spumante, champagne, ripeto, teniamo vini spumanti e champagne un po' per tutte le esigenze, sia per quanto riguarda la regalistica, se si vuole regalare, che per quanto riguarda, diciamo, qualche bottiglia da bere in compagnia, così. Ecco, e poi c'è anche un ampio assortimento di prodotti da degustare, da servire a tavola, dai formaggi a tanto altro. Sì, teniamo diverse soluzioni anche per quanto riguarda le conserve, le conserve sott'olio, i prodotti nostri tipici campani. Anche cosiddetti addirittura friarielli sott'olio. Pepperoncini ripieni con acciughe, con olive, ma poi, diciamo, anche i prodotti nostri qua della costa da Amalfi, tipo la colatore di alici. Teniamo anche, diciamo, le alici di menaiche, che sono molto ricercate. E poi, diciamo, oltre alle conserve, anche un buon olio extravergine, formaggi, come dicevi, i provoloni del monaco, il cancio cavallo siliano DOP, il pecorino di moliterno. Diciamo, diverse soluzioni, ecco, diverse cose sfiziose da mangiare. Quante cose buone, Gaetano! E per chi vuole assaggiarle già cucinate, preparate magari da un vostro chef? Sì, è possibile assaggiarle alla nostra osteria, l'Osteria Vino Russo, a Nocella Superiore, sul Corso Matteotti. Sì, è possibile assaggiarle alla nostra osteria, l'Osteria Vino Russo, a Nocella Superiore, sul Corso Matteotti.